Cosa abbastanza grave insomma, è venuta giù un po' tutta, è sprofondata poi quindi non sappiamo un po' nemmeno cosa c'è sotto. C'è paura a Pieve Santo Stefano ed in particolare nelle abitazioni di Via della Greppa che sono evacuate da quando è franata l'area di servizio lungo la E45. Il sindaco di Pieve Albano Bragani ha emesso l'ordinanza di evacuazione di queste abitazioni che sarà in essere finché Anas non avrà messo in sicurezza tutta la zona. Il pericolo adesso sono le piogge perché il terreno potrebbe franare di nuovo. Il pericolo c'era insomma quindi poi sono intervenuti solo che il tempo non gli ha permesso di andare più avanti e quindi speriamo, speriamo che non piova ancora anzi che si asciughi un po' così portano via la terra. Sabato è andata via la corrente perché un filo sembra che passi sotto ma non sotto, sotto sotto ancora nel senso prima che facessero la superstrada però poi ecco non so come di preciso insomma però dicono che il filo passi sotto quindi vuol dire che si è strappato sotto la frana. Quanto tempo dovete rimanere fuori dalle vostre abitazioni? Fino a Revoca quindi non sappiamo ancora, fino a che non hanno messo in sicurezza soprattutto insomma. Quanto fa paura questa strada? Abbastanza perché è tutta così quindi ci sono successi anche di molti incidenti insomma quindi la cosa non è solo qui ma la strada va assolutamente rivista anche perché ci sono dei viadotti che sono alti e pericolosi insomma. Insomma il traffico ce n'è tanto e quindi penso che sia ovvio insomma che venga... Gli italiani non di adesso ma di qualche mese fa ci raccontano insomma che davvero può succedere... Qui sono andati giù due camion, sono andati giù nel giro di fuoco e poi ripeto i viadotti alti sono sopra. Tra l'altro questa è l'unica via di comunicazione perché la statale è bloccata e quindi insomma mi sembra doveroso che intervengano quanto prima insomma nei lavori. Percorre l'hai 45? Sì. Ha paura o non ha paura? Qualche volta sì, per i camion. Tantissimi. Come le sembra questa strada? Sono 25 anni che sono sposata e sempre rotta. Ecco cosa mi sembra. Poi non parliamo né di là per andare in Romagna o per la carità. No no no, bruttissima. Quali sono i pericoli secondo lei? Ma secondo me non ha una portata per tantissimo traffico come tir, come tutte queste cose. Poi tante buche, buche, buche. Pericolosissimo. Hai visto che adesso è crollata questa area? Ho visto sì, ho visto. Non è una bella cosa. È l'unico posto che mi capita che vedo una cosa così, dico la sincera verità. Non perché ce l'ho con l'hai 45, però è brutto d'estate viaggiare. Se uno per esempio vuole andare alle terme deve fare un giro pesca, come in modo di dire. No, non è bella. È molto pericolosa. Io la definisco molto pericolosa. Sindaco, lei ha deciso per questa ordinanza. Qual era il pericolo per le abitazioni? Il pericolo non è facilmente immaginabile perché facendo la cronistoria, prima è sceduta la piazzola di sosta di 15 centimetri, poi improvvisamente giovedì scorso è calata di un metro e mezzo e fuoriusciva un po' di acqua anche dal muro antistante all'abitazione. Quindi questa massa di terra che non è enorme, che per me sicuramente è definibile uno smottamento più che una frana vera e propria, può interessare le case frontiste, per cui abbiamo fatto un'ordinanza mettendo a disposizione degli abitanti e dell'abitazione, come è scritto nell'ordinanza stessa, degli alberghi in zona dove si possono ricoverare. Naturalmente questa carico del comune cambia poco. Per cui non sono preoccupatissimo, però dentro la terra non c'è nessuno, quindi non so l'evoluzione di quello che potrà fare. Penso che se l'Anna si riesce in tempi brevi, come ha incominciato, a alleggerire la scarpata rimuovendo diverso materiale, penso che il pericolo sarà scongiurato. Ecco, poi quello da fare lo sanno loro, la mia è un'opinione personale. E l'opinione personale però rimane che finché non sarà rimesso in sicurezza la scarpata, l'ordinanza rimarrà in vigore. Quello che ha salvato queste abitazioni è stato questo muro che però è stato costruito dai cittadini, non da Anna. Ha salvato, io direi questo. Fortunatamente le masse in gioco sono abbastanza limitate, perché questi sono terreni di una scarpata molto ribida che si è mosso 40 anni dopo che si è stata fatta, quindi poteva muoversi anche molto prima probabilmente. Ecco, per cui più che il muro dei cittadini fa una piccola base, però il muro non regge niente se veramente la scarpata venisse avanti. E' chiaro che se dovesse franare tutte le 45 perché le masse a monte fossero diverse, allora non c'è un muro che tiene. Adesso mi sembra che ci sia una quantità di materiale che non è enorme e penso che si possa benissimo alleggerire la scarpata rimuovendo questo materiale. Questa strada, Sindaco, però continua a fare tanta paura per i viadotti, per le condizioni dell'asfalto. E questo è vero, io so che ogni tanto si sente dire che vengono stanziati milioni su milioni per metterla in sicurezza, per ripararla. Qualche lavoro onestamente nell'ultimo anno a monte è stato fatto, hanno lavorato anche sulle pile, poi ho problemi di finanza pubblica o precedenze di altre zone o quant'altro, i lavori anche in questo momento vanno rilento. Si dice che saranno molti lavori in corso per la messa in sicurezza di questa strada, che viene dichiarata un'alternativa all'autostrada, però strada ha un enorme traffico. Per noi è un asset fondamentale perché a noi ci ha tolto dall'isolamento questa strada, perché lavorare in un paese come questo, avere a disposizione il nord Italia, che vuol dire a Bologna, alla stessa distanza di Firenze, per noi è una cosa imprescindibile e importantissima, per cui mi auguro che questi lavori di manutenzione e di ripristino vengano fatti il prima possibile, perché la cosa per noi è fondamentale e poi mi sembra anche strategica per il paese.